Ciao ragazzi da Vittorio, video breve perché dopo faremo la diretta come vi ho già annunciato ieri ma secondo me ci sono un paio di cose di cui discutere in casa Lazio, cioè ci sono due problemi abbastanza importanti perché Luis Felipe Ramos non si è allenato neanche oggi ed è in grande dubbio per la partita contro l'Atalanta, stessa cosa per Adam Malusic. Ecco certo che riprendere a giocare il campionato dopo un lunghissimo stop e scendere in campo con tante assenze è veramente da un punto di vista sorprendente perché insomma con due mesi di break cavolo non riuscire a recuperare e anzi perdere giocatori è veramente assurdo e dall'altra insomma il grande dubbio di questo rinizio è questo, quanti giocatori la Lazio perderà per infortunio e come si muoverà perché Luis Felipe Ramos si è fatto male nell'annichevole interna di sabato scorso e da allora non si è più rivisto in campo e si parla di un affaticamento muscolare, si dice 10 giorni di stop per cui dovrebbe riprendersi ad allenare proprio il giorno in cui la Lazio dovrebbe giocare contro l'Atalanta per cui sicuramente il brasiliano è fuori dalla partita contro l'Atalanta, partita che ve l'ho già detto tante tante volte è una partita fondamentale per la Lazio perché vincere contro l'Atalanta sarebbe importantissima sia dal punto di vista del morale sia dal punto di vista della classifica. Giocare senza Luis Felipe è un'assenza importante perché il brasiliano va detto sta giocando molto bene però dall'altra parte Patrick è stata la sorpresa di questo campionato in casa Lazio e anche Bastos danno delle garanzie sicuramente che fanno star tranquillo Simone Zaghi. Certo a mio avviso Luis Felipe è più completo dei due giocatori però sia Bastos che Patrick, credo giocherà Patrick, offrono delle garanzie da quel punto di vista anche se ripeto l'Atalanta è una squadra molto offensiva che può mettere in grande difficoltà le difese avversarie, non giocare con la difesa titolare è un'incognita, è un problema. Ripeto la cosa che mi preoccupa di più è il fatto che la Lazio non gioca da tantissimo tempo eppure avrà tanti infortuni, tanti giocatori indisponibili perché abbiamo detto di Luis Felipe, Marusic probabilmente salterà la partita e sappiamo che Lulic non si sa neanche quando rientrerà. A questo ho aggiunto anche Lucas Leiva che almeno si sta allenando ma sembra che il ginocchio quello che ha operato lo scorso mese sia ancora un po' gonfio e quindi il giocatore non sia al massimo. Tante incognite per una partita importantissima, questa è la cosa che mi preoccupa di più onestamente della ripresa del campionato. Il grande punto interrogativo è chi giocherà sulla sinistra, ovvio senza Marusic credo che Inzaghi sceglierà Johnny titolare contro l'Atalanta, un po' mi vengono i brividi non so voi perché insomma sappiamo che l'Atalanta è una squadra che attacca molto, Johnny in fase difensiva fa tanta fatica, speriamo che quello non diventi un punto debole che l'Atalanta cerca di sfruttare al massimo. Però del resto la Lazio a questo punto come alternativa e la sinistra c'ha Lukaku che chissà se è pronto, chissà che condizioni è, oppure Luca Falbo il giovane proveniente dalla primavera, capite che Johnny è l'unica carta praticabile per la partita contro l'Atalanta. Johnny però, dobbiamo essere onesti, ho fatto altri video a riguardo, non ha mai convinto pienamente al cento per cento e schierarlo contro l'Atalanta è una grande incognita, è una grande incognita, speriamo bene perché come vi ho detto la partita contro l'Atalanta è importantissima. Ripeto, la cosa che mi lascia basito è il fatto di riprendere dopo un lungo stop e avere tre giocatori out e Lucas Leva in dubbio. Questa è una cosa che veramente mi preoccupa tantissimo perché giocando ogni tre giorni non farai mai in tempo a recuperare altri infortunati, dovrai cercare di fare turnover e se già parti senza tre giocatori la situazione si complica tantissimo. Io finisco qua, vi ricordo la diretta più tardi alle 15. Ciao, alla prossima!